ciao amico amica del cancro benvenuto benvenuta questa è la lucerna di cronos e questa è la tua lettura per il mese di agosto puoi guardare questo video se hai il segno solare o l'ascendente in cancro come sai al passaggio fra un mese e l'altro realizzo 12 video un pochino più brevi dedicati ai segni zodiacali oggi appunto è il turno del segno del cancro che cosa porta quindi il mese di agosto 2022 per te che il segno solare l'ascendente in cancro andiamo a vedere il giudizio il giudizio una carta di notizie di purificazione di voci di rapporti con gli altri di valutazione di ponderazione ma anche di popolarità quindi di conoscenze di contro della carta dei ritorni le notizie da situazioni che già ben conosciamo oppure magari della volontà che un ritorno possa caratterizzare il nostro futuro quindi dell'attesa di un ritorno è una carta che va comunque in positivo a parlare di quelle che sono le realizzazioni soprattutto nella coppia se hai una coppia quindi può essere una carta che ci parla del fatto che qua c'è un avviarsi a un consolidamento nella coppia in particolare se ancora non hai avviato una dinamica di convivenza o magari non hai istituzionalizzato la coppia oppure potrebbe addirittura essere una carta che va a parlare di un nuovo lavoro è comunque un anche un rinnovamento un un attento ponderare valutare e alla fine scegliere di avviarsi verso quello che è il meglio per noi comunque alla fine una carta molto positiva che qualora avesse risvolto in negativo può diventare magari una carta di chiusura verso quelle che sono i rapporti con gli altri o in generale nel confronto con gli altri o una carta di eccessiva solitudine e introspezione o magari una carta di valutazione sbagliata di un giudizio sbagliato come sai le prime due carte che metto qua le leggo sia in positivo che in negativo poi non esistono arcani positivi o negativi arcani di per sé hanno un certo tipo di energia che relazioniamo poi al nostro vissuto però questo è un altro discorso allora vediamo un po per te che ha il segno solare l'ascendente in cancro che cosa porta il mese di agosto 2022 il bagattello un nuovo inizio oppure ancora torna il tema del confrontarsi con gli altri il bagattello una carta anche di parole una carta di sapersi vendere quindi anche del saper un po portare le situazioni verso la nostra parte ma anche la carta di colui che sa come si manipola la materia quindi colui che sa dare forma ai propri desideri può rappresentare una persona che entra nella tua vita può rappresentare una notizia da qualcuno o semplicemente anche un rinnovamento delle tue energie in vista di una sfida che ti proponi è sempre una carta comunque che prende in esame di nuovo l'idea appunto della parola il bagattello dietro un banco e comunque il suo è un lavoro che ha comunque nella parola una delle espressioni più importanti vediamo un po a livello di amore 8 di bastoni 5 di spade il mondo allora un 8 di bastoni un 5 di spade e un mondo sono tre carte particolari soprattutto per quello che è un po un dinamismo che viene a trovarsi pericolosamente messo in discussione intorno alla metà del mese ma la dinamicità che parte proprio dalla carta di 8 di bastoni carta di movimento carta di progettualità carta di conoscenze carta di anche spostamenti viene comunque poi a trovarsi un attimino in conflitto con quella che è una carta di 5 di spade in questo mese potresti scoprire che qualcuno non è completamente onesto con te perché la dinamicità secondo me non si applica soltanto che poi tu sia in singolo sia in coppia quello fa poca differenza secondo me qua non si applica soltanto a quella che è la una tua qualità magari di essere dinamico dinamica quindi di accogliere situazioni sfide persone attorno a te ma si applica anche alle persone che abbiamo attorno che poi uno anche dei messaggi del lotto di bastoni perché comunque il frequentare le persone andare in giro con le persone il trovarsi di incontrarsi o magari anche fissare un appuntamento che però molto rapidamente possono cambiare opinione o valutazione nei nostri confronti quindi mi torna molto con la carta del giudizio in quanto valutazione di una persona che potrebbe poi rivelarsi non completamente onesta con noi ora se sei in coppia non ti dico che è per forza il tuo partner o la tua partner potrebbe essere un qualcuno che magari frequentate in coppia o magari un qualcuno che se hai avuto proposte per avventure extra potrebbe averti fatto credere quello che magari poteva essere un impegno maggiore quando in realtà poi si è defilato si è defilata quindi un qualcuno che ha lanciato un po il sasso poi ha nascosto la mano ecco comunque in ogni caso qui vedo un otto di bastoni quindi la rapidità la decisione la dinamicità gli appuntamenti gli incontri alla luce di un 5 di spade di un mondo quindi una carta di conflitto una carta di chiusura ciclica ma anche di ritrovata mondanità quindi qua secondo me si esce un pochino dal gioco di una persona dall'inganno un po dalla manipolazione in alcuni casi nei casi più estremi poi questi sono video fatti per un numero ampio di persone quindi magari uscilo sulla sua sulla tua situazione quindi qua si esce un po da una situazione in cui una persona in particolare non è proprio onesta nelle sue intenzioni nel suo comportamento con noi e si sceglie magari di aprirsi a nuove opportunità perché comunque la carta del mondo è anche una carta di interazione con le persone attorno a noi di mondanità nel vero senso della parola e la carta del giudizio come detto prima è una carta anche di popolarità di nuove conoscenze se non addirittura in qualche caso di ritorni però la prima parte del mese secondo me è caratterizzata un po da questa delusione o disillusione di un qualcuno che o non si rivela in linea con le nostre aspettative oppure ha proprio dichiaratamente mentito o magari ha lanciato il sasso e ha nascosto la mano come dicevo prima quindi un qualcuno che proprio onesto onesto nei nostri confronti non è ma anche se sei single qua io posso vederci una conoscenza un appuntamento con un qualcuno che sulle prime potrebbe risuonarti potrebbe sembrarti una cosa e invece in realtà poi è un'altra quindi un qualcuno che secondo me delude un pochino la tua aspettativa però mi si chiude il mese con un mondo non posso darti una lettura negativa ad una carta di mondo la carta di mondo di solito è estremamente positiva in particolare per i rapporti sociali in particolare anche per quelle relazioni che magari possono essere tormentate e che in questo mese possano trovare magari un momento di demotivazione intorno a metà mese perché qui non è detto che la persona che non ti dà quello che vuoi o che è menzognero o menzognera sia una persona nuova può essere benissimo se hai una storia di alti e bassi una sorta di resa dei conti con questa persona qua quindi fondamentalmente nonostante questo movimento un po' incostante delle prime due settimane più o meno dei primi 20 giorni in realtà poi l'ultima decada o comunque l'ultima settimana la vedo abbastanza tranquilla abbastanza diciamo ti vedono un'energia di fiducia nel riaprirti un po' alle possibilità quindi riassumendo se sei single qua c'è probabilmente una persona che o entra nella tua vita o già conosci ma che scegli di rilasciare perché ti accorgi che non è sincera se sei in coppia in alcuni casi potrebbe essere un qualcuno che tenta un po' di minare la stabilità della coppia ma che poi in realtà ha tanti discorsi ma fatti niente oppure c'è una coppia nella quale si va un attimino a mettere in discussione la sincerità del partner o della partner se invece hai una storia tormentata stessa identica cosa si va a mettere in discussione la sincerità e l'impegno dell'altra persona oppure in alcuni casi si potrebbe addirittura cercare di smascherare un po' l'indecisione le trame, quelle che possono essere altre frequentazioni di questa persona per poi chiudere ad ogni modo la fine del mese la vedo molto positiva con quello che è un mondo e quelle che sono anche nuove opportunità soprattutto se con questa persona tagli in modo irrecuperabile questo mese vediamo un po' a livello lavorativo comunque ecco è il mettere in discussione la sincerità di qualcuno allora regina di bastoni tre di bastoni molte carte di bastoni questo mese il sole a livello invece lavorativo la vedo molto 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 bene perché comunque una regina di bastoni è la determinazione, la grinta un tre di bastoni è forse un po' di ritardo la necessità di perfezionare un po' quella che è una strada avviata oppure magari di perseverare se sei senza lavoro però anche in questo caso con un sole finale non vedo una fine mese che ti mette in così gravi preoccupazioni la vedo comunque una fine mese che ti apre comunque un buon spiraglio di realizzazione comunque ti dà una quasi certezza per l'avvenire se sei senza lavoro potrebbero arrivare anche proposte con un tre di bastoni ma sempre in ritardo su quella che è l'aspettativa il tre di bastoni è una carta di perfezionamento, di miglioramento un po' una carta che va a parlare del fatto che sì la promessa della realizzazione prossima c'è però ancora un pochino bisogna attendere è la carta anche di chissà creare le condizioni perché la propria situazione migliori quindi le persone che fondamentalmente sono in grado di trovare soluzioni a quelle che magari sono le istanze del momento in attesa di un miglioramento che comunque seppur il ritardo nel tempo è previsto arriva il tre di bastoni anche la carta appunto degli inventori, dei costruttori di coloro che hanno l'operosità nelle mani e che lavorano anche in maniera molto concreta la realizzazione dei loro progetti nel materiale quindi qua c'è un percorso che da una regina di bastoni quindi dalla determinazione passa per un tre, passa per un duro lavoro passa per quella che è un impegno costante, un sacrificio comunque che troverà poi un adeguato premio intorno alla fine mese con quella che è uno sbocco creativo, lavorativo di tutto rispetto quindi per te la fine del mese può essere comunque un momento che va a ripagare un po' gli sforzi fatti in precedenza non escludo che per qualcuno ci sia addirittura un cambio di lavoro perché la regina di bastoni mi va a rappresentare un qualcosa che comunque è transitorio nella nostra vita il tre di bastoni è anche associato a quello che è un traguardo contrattuale, legale e burocratico quindi è possibile che qua ci sia per qualcuno un inizio del nuovo lavoro o per qualcun altro proprio il cambio del lavoro direi che comunque è un mese molto positivo a livello lavorativo con un sole si chiude in maniera abbastanza motivante abbastanza forte e in alcuni casi addirittura con quella che è un'entrata di denaro sicuramente non per tutti però comunque un'entrata di denaro che anche se non cambia la vita però aiuta allora vediamo un pochino le energie generali del mese di agosto 2022 per te che hai il segno solare o l'ascendente 10 di bastoni il diavolo 5 di denari allora le energie generali vertono secondo me molto più intorno a questo senso di tradimento oppure a questa persona che magari è un po' melliflua che secondo me caratterizzerà un pochino i tuoi rapporti sociali per buona parte del mese con questo 5 di denari mi considererai la perdita in maniera abbastanza banale abbastanza superficiale mi viene anche da pensare che essendomi uscito dell'energia non necessariamente deve essere legato all'amore può essere legato anche alla situazione lavorativa che come abbiamo visto avrà comunque la tua determinazione di andare in fondo e in alcuni casi potrebbe rappresentare proprio il rilascio di una situazione lavorativa precedente comunque ecco vedo questo diavolo centrale accanto ad un 10 di bastoni come il prolungare un pochino una situazione appunto di inganno ma anche di autoinganno quindi valutazione sbagliata di una persona che magari non ci si è rivelata per tutto e quindi un 5 di denari in fondo come la scelta di tagliare un rapporto sociale importanti o più rapporti sociali importanti per quelle che sono poi le nostre dinamiche affettiva o lavorativa se non addirittura in pochissimi casi per entrambi quindi è un mese nel quale fai una scelta nel quale appunto operi un giudizio per quella che è una rinascita come ci dicono le due carte di energia generale il giudizio e il bagattello assumendoti anche la responsabilità di questa scelta e cercando di proiettarti oltre quello che può essere magari un momento nel quale la tua sensibilità è stata messa alla prova da una persona poco corretta o poco pulita nei tuoi confronti che può essere sia a livello lavorativo sia a livello di coppia comunque di affetti però ti ripeto un mese che mi si chiude con un sole e un mondo non lo posso vedere in negativo diciamo che da questa perdita tu vai a guadagnare in termini di libertà, in termini di meno dogmatismo in termini di credere di più in te stesso, in te stessa nei tuoi progetti quindi insomma forse è uno svincolarsi da un atteggiamento mentale o più probabilmente da una persona che per noi risulta limitante ed ingannevole quindi è un bel mese questo agosto 2022 segno del cancro direi che per te c'è una presa di posizione anche in alcuni casi molto aspra e una conseguente rinascita in maniera molto lineare che poi sicuramente si andrà a concretizzare meglio in quelli che sono i mesi successivi vediamo un pochino le carte della striga cosa vogliono dirti la spada, l'ispirazione beh già la spada è una carta che va a parlare di una forte attività mentale che si esprime poi nel bisogno di proiettarsi oltre le proprie idee le proprie speranze, i propri timori quindi anche oltre le proprie illusioni del momento la spada squarcia il velo che ostacola le percezioni del momento quindi mostra la nuda e cruda verità di una situazione oppure magari la nuda e cruda essenza di una persona e ci permette di progredire lungo sentieri nuovi, inattesi quindi nel silenzio o nella confusione comunque sia la vostra situazione lasciate che la spada, quindi il mentalismo l'andare a fondo nelle cose oppure magari una voce, una notizia squarci il velo dell'illusione, il velo di maia e procedete dritti per la vostra strada la carta avverte anche di usare la parola con molta cautela quindi dice guardati dai tettegolezzi, dagli intrighi da quelli che possano essere magari cose fatte ai tuoi danni sappi che nel momento in cui riuscirai a squarciare il velo vedrai tutto in maniera molto più nitida e sceglierai anche di trascendere questi conflitti questi tettegolezzi senza perderci tanta energia, senza spenderci tanta energia anche al semplice livello di parole quindi va a ribadire un pochino il fatto che questo mese sarà caratterizzato da un qualcuno che magari non è completamente onesto o onesta con noi che ci si rivela o viene rivelato essere così da altre persone da voci, da petticolezzi, però va anche a raccomandare di accettare di ripartire di considerare la perdita come di modesta entità di trascendere l'illusione momentanea di dire ok vabbè è andata così io posso ambire a molto altro di meglio perché con un sole in finale e un mondo in finale posso aprirmi molte possibilità, molte potenzialità però devo permettere a questa spada di squarciare il velo di Maia il velo dell'illusione anche se magari potrebbe farmi male come effettivamente a metà mese potrebbe essere bene io ti ringrazio per aver visto questo video se ti è piaciuto ti invito a lasciare like ad iscriverti al canale ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva un altro tipo di contenuti ci vediamo domani per un altro segno zodiacale ciao